Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 tratto chiuso per lavori tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni. In A11 si segnala la chiusura per lavori del tratto tra Alto Pascio e Chesino Zanese in direzione Firenze fino alle 7 di domani mattina. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A1 tra Rioveggio e Aglio e tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano. Sulla statale Trebbi Stivenina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i chilometri 149, 550 e 144 e 700 con chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata e uscita in direzione Orte. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!